Ma ragazzi, mo' mi prendo due giorni di riflessione. Allora, definizione intelligenza la do molto così, non molto medica, la do. La definizione intelligenza è fare la cosa giusta nella situazione data e rispetto all'obiettivo che hai. L'obiettivo è solo e unicamente quello dell'interesse della città. Un fine settimana di riflessione per il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che rimanda a lunedì la decisione di rassegnare o meno le sue dimissioni. Dopo la bufera giudiziaria sullo scandalo Mazzette nella ricostruzione, sono ore concitate per il primo cittadino che all'indomani la riunione del Partito Democratico, al termine della quale sembrava potersi concretizzare l'ipotesi di missioni, convoca una giunta straordinaria e decide per il passo indietro. Abbiamo discusso a lungo della situazione e studiato anche l'ordinanza della Procura della Repubblica che fa emergere lati oscuri anche riguardo le cariche che allora ricopriva ad esempio Vladimiro Placidi, non ancora assessore alla ricostruzione, puntualizza Cialente, e Mario Di Gregorio che all'epoca dei fatti era dirigente del settore cultura. In tal senso sto pensando alla città e alla cosa più utile da fare per salvaguardare i cittadini, spiega ancora il sindaco. Tra gli elementi su cui riflettere ci sono i rapporti con il governo, sempre più difficili per i fondi insufficienti e anche il complessivo indebolimento della mia persona e dell'aggiunta per quanto accaduto. No, non c'è niente da... abbiamo discusso un po' la situazione generale, abbiamo visto gli atti delle indagini che stanno evidenziando che vi sono... però non entro... però vi sono alcune cose che non collimano con i tempi di nomine di assessori o il ruolo, perché si dice tanto che dovevano girare i dirigenti. All'epoca dei fatti il dirigente di Gregorio era dirigente alla cultura, alla cultura, alla proiezione civile e all'impianto sportivo, allo sport. Quindi abbiamo analizzato queste cose, poi abbiamo discusso un po' il problema del bilancio, che è un problema molto serio, come quello che hanno tutti i sindaci, di 8.000 sindaci italiani. Dagli atti, se è vero che Placidi non era assessore allora, ma era un privato cittadino quando ha fatto quelle cose, tutto si sta risolvendo su due aspetti gravissimi, che come sospetto, ma sono due avvisi di garanzia. Sull'eventuale rimpasto di giunta, nel caso in cui, come a legge nell'aria, Cialente decida di rimanere in carica, i tempi non sono ancora maturi e toccherà vedere chi entra e al posto di chi è in giunta, ma anche del vice sindaco di missionario Roberto Riga. Cialente, scusi, una parte del PD vorrebbe l'olio in giunta, è vero? Si è parlato anche di questo nella riunione di ieri sera molto accesa del PD? Ma non è stata una riunione accesa, Anzi, a parte fa un freddo là dentro che magari fosse stata accesa, si sarebbe scaldato un po', penso di essere mi ammalato ieri là dentro, ma no, non è questione di questo, la riflessione, io ho chiesto di fare la riflessione di Cio Pocanzi, la cosa utile da fare, io so che in questo momento, per vari motivi, l'immagine della città è compromessa, con i cittadini che sono giustamente amareggiati, però questa sì è una preoccupazione relativa perché si può recuperare, è l'immagine nazionale, il rapporto col governo che è diventato, a mio avviso, ormai impraticabile, perché di fatto credo che l'intervento di Trigiglia abbia definitivamente delegittimato il sindaco dell'Aquila. Il sindaco che metterà al posto di riga? Prematuro, tutto molto prematuro. E anche quindi un rimpasto di giunta prematuro? Le faccio una domanda, io. Perché dovrei fare un rimpasto di giunta? No, lo sto chiedendo, visto che si recuperava di un rimpasto di giunta dopo la riunione... Azzerare, perché dovrei azzerare? Vedo oggi Antonello Bernardi, che è uno delle menti più illuminate del Consiglio Comunale, mi chiede un cambio di passo. Io più del passo che ho adesso, che passo devo tenere? Il passo di Danza, il passo dell'OCA? Che passo bisogna avere? Incalzato dai giornalisti, Cialente risponde anche alla notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano, in merito alla sua presunta conoscenza, in tempi non sospetti, dell'indagine in corso di svolgimento d'OtDES. Mi chiesero solo degli atti riguardo la figura di Pierluigi Tancredi per un esposto, spiega Cialente, qui al Comune e a un continuo via vai tutti i giorni, di inquirenti delle forze dell'Ordine. Comunque sono venuti semplicemente per chiedermi se avevo gli atti della nomina di Tancredi. Io ovviamente ho detto, per che cosa hai? Dici no, è per un esposto. Nessuno mi ha detto che era per i puntellamenti, dopodiché io ho chiamato la mia segreteria, ho detto ritrovate questi atti, chiaramente non ci stanno perché quei giorni, figuratevi se c'era un protocollo, era un casino. Per cui poi, non mi ricordo se era la foresta, la Guardia di Finanza, hanno acquisito due faldoni di protocollo di quell'epoca e basta, io tutto, questa è una delle solite notizie che sapevo. Guardi, allora dovrei sapere mille cose, qua è un continuo prendere atti su tutto, anche perché voi sapete che gli esposti sono continui.